Un buffo incidente ha rallegrato tutta la troupe che sta seguendo Irina Schaik, super top model, impegnata in questi giorni in un servizio fotografico per Boga New York. La modella stava posando per alcuni scatti sotto la pioggia assieme a due giovanissimi modelli, che nonostante la tenera età non hanno perso l'occasione per toccare uno dei lati B più belli al mondo. Irina ovviamente è scoppiata a ridere, proprio quando avrebbe dovuto posare con fare serio e regale.